Siamo oggi al Senato della Repubblica nella prestigiosa Sala Zuccari dove si parlerà di volontariato organizzato quale risorsa nell'interesse pubblico. La volontà è stata proprio quella di portare all'interno delle aule parlamentari il valore del volontariato come soggetto che deve far parte delle politiche e degli indirizzi del nostro Paese in quanto soggetto sempre presente, soggetto che interviene, soggetto che costruisce comunità. Ciò che non si deve fare è dare per scontato l'esistenza del volontariato ma cercare sempre istituzioni e cittadini di promuovere un'azione continua di crescita, di sviluppo e di sostegno a una risorsa importantissima del nostro Paese. Ampas si è fatta copromotrice di questo evento insieme alle altre reti del volontariato, insieme al Forum Nazionale del Terzo Settore proprio per portare avanti la discussione e la riflessione sulle tante trasformazioni che in questo momento la società e conseguentemente anche il mondo del volontariato sta vivendo.